Internazionalizzazione, sistemi informativi, emergenze sanitarie e edilizie. Sono questi i punti qualificanti che hanno permesso all'Istituto Zooprofilattico dell'Abruzzo e del Molise di Teramo nell'ultimo anno di essere punto di riferimento scientifico del mondo intero. Il direttore Mauro Mattioli, a fine mandato, sintetizza così gli eventi più importanti che hanno coinvolto l'IZS Caporale nel 2018. L'Istituto continua a funzionare veramente molto bene, a mettere successi, avendo una serie di risultati che vanno dai paesi africani con cui abbiamo una collaborazione trasversale dalle malattie infettive ai sistemi informativi fino alla diffusione negli ultimi mesi del ruolo dell'Istituto nel disaster management, cioè il nostro contributo nelle questioni che riguardano i disastri naturali di cui noi purtroppo siamo diventati anche esperti a seguito degli eventi sismici. Da questo quadro internazionale fino a una situazione locale, come sapete noi siamo presenti sul territorio, la macchina di intervento ha sempre il motore caldo e quando c'è bisogno parte veloce. Così è stato il caso dell'infezione da Campylobacter che quest'estate ha toccato più di 200 bambini a Pescara. Grande capacità di intercettazione di fondi, molti di questi fondi si traducono in contratti di collaborazione per molti giovani e sono circa, almeno da quando sono qua io, quasi 150 giovani che hanno un lavoro. Per quanto riguarda la sede 25 domande arrivate per un lavoro da 17 milioni di euro e adesso penso che a breve affideremo progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori. Tra gli interventi di edilizia avviati nell'anno 2018 ci sono quelli relativi alla sede centrale dell'istituto e quelli delle nuove strutture fuori teramo per un valore complessivo di 45 milioni di euro. Questa nuova governance che si è insediata da circa tre anni è riuscita a convogliare sull'istituto 27 milioni del masterplan che sono candelizzati quindi sono in contabilità non fittizi di cui 17 milioni è partita l'appalto integrato e sarà giudicato fra breve perché sono già in esame tutta la progettualità che è arrivata fino a oggi e in progettualità i 17 milioni e mezzo per la ristrutturazione di una parte di questa vecchia sede dove ci troviamo ora due milioni e mezzo sono stati in parte già in opera in fattura della vecchia della zona di collaterrato. E intanto la macchina della sorveglianza sanitaria dell'istituto zooprofilattico di Teramo è sempre pronta ad intervenire nel mondo senza però dimenticare il territorio e di questi giorni controlli alle menze scolastiche di tutto il paese che hanno restituito dati sconcertanti sulle condizioni igieniche di queste strutture.